Cinque assoluzioni nel rito abbreviato, tre proscioglimenti nel rito ordinario. Si è conclusa in questo modo l'udienza al Tribunale di Patti riguardante due delibere adottate nel 2010 dalla Giunta Comunale di Brolo guidata dal Sindaco Salvo Messina. In questo esecutivo ricopriva la carica di assessore anche l'attuale deputato regionale del PD ed ex sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto. Le delibere si riferivano al rinnovo dei contratti di lavoro a due dipendenti comunali. Secondo l'accusa l'atto amministrativo prevedeva un rinnovo per tre mesi quando invece avrebbe dovuto prevedere da un anno a cinque anni. La violazione della normativa fu evidenziata dalla regione che segnalò la circostanza all'amministrazione brolese. Da qui l'eventuale danno è recato ai due dipendenti costituitisi parte civile con l'avvocato Salvatore Giannone e dall'esposto di uno di loro scatoli l'inchiesta e l'udienza preliminare. Il PM Rosa Raffa aveva chiesto sei mesi di reclusione perché aveva scelto il rito abbreviato e di rinvio a giudizio perché aveva optato per il giudizio ordinario. Ma vediamo i risponsi. Il sindaco di Brollo Salvo Messina, l'ex assessore comunale Giuseppe Laccoto, il vice sindaco Giuseppe Letizia e gli assessori Nunziata Maria Faustino e Vincenzo Di Luca Lutupitto sono stati assolti con formula piena perché il fatto non costituisce reato. L'assessore Maria Ricciardello ed il funzionario responsabile del procedimento Giovanna Lucia Princiotta sono state prosciolte perché il fatto non costituisce reato. Prosciolto anche il direttore generale Carmela Caliò perché il fatto non sussiste. La difesa è riuscita a dimostrare come, nel caso in oggetto, vi fosse la discrezionalità dell'amministrazione. In ogni caso la giunta, per il caso specifico dei due dipendenti, pur avendo già rinnovato la loro posizione economica per un anno, trascorsi tre mesi, a seguito di una nuova valutazione, li riassorbì nella pianta organica comunale. Hanno difeso gli avvocati Luciano Spurio, Carmelo Peluso, Nicola Massimo Marchese, Paolo Starvaggi e Francesco Pizzuto.